Allora, il nostro manager del distretto di Mirano, in provincia di Venezia, ci diceva che non è stato un passaggio, cioè un percorso semplice. Non è semplice perché appunto ci sono tutta una serie di soggetti che intervengono, che mettere assieme non è sempre facile. Per il più, come si diceva anche questa mattina, diciamo che poi c'è una componente importante perché noi possiamo pensare, mettere a tavolino tutta una serie di strumenti. Per esempio abbiamo fatto tutta una serie di attività di analisi del territorio, quindi del distretto. Mi riferisco ad analisi sia qualitative che quantitative, quindi visitando punto vendita per punto vendita, quindi andando a fare una valutazione qualitativa dell'offerta. Quindi c'è un lavoro di analisi, ma questo lo puoi fare perché ti affidi a soggetti preparati, prendi i dati, elabori, fai delle analisi, proietti, cominci a immaginare una certa vocazione e quindi una vision di quello che potrebbe essere, ti confronti, eccetera. Poi c'è un passaggio importante, occorre avere le azioni, fare fare, no? E qui intervengono i soggetti privati, cioè le persone che stanno all'interno. E quindi ti troverai a dover poi andare a confrontarti con persone che sentono il problema ma che devono fare un passaggio. La trasformazione digitale non è di poco conto, sta trasformando il commercio totalmente, quindi implica poi anche una cultura digitale non da poco, per esempio, ma anche una cultura imprenditoriale differente. Allora questo è un passaggio che richiede un tempo che non è sempre coincidente con il tempo dei cambiamenti. Perché va fatto questo passaggio digitale anche per i negozi fisici? Ma perché, allora, non vuol dire che si deve applicare tutto il digitale nel distretto e nei negozi, non è questo il punto, è che però ci sono tutta una serie di strumenti che vanno utilizzati. Io non posso non tener conto che oggi viviamo, il vero petrolio sono i dati, i numeri, e di conseguenza da qui posso fare delle analisi e prevedere, no? E cercare di capire. Quindi elemento di studio e di analisi. Per esempio, non sapere quante persone entrano in piazza, qual è il differenziale tra il prima e il dopo di un evento, piuttosto che altre cose, non posso non saperle. E poi, gli strumenti di pagamento, come si diceva prima, modalità di fidelizzazione, che non sono solo le fidelity card, ci sono anche altre modalità. Quindi ci sono tutta una serie di strumenti digitali, senza arrivare poi alle vetrine intelligenti, piuttosto che, ecco, che per carità, belle fanno scena, però non è questo il punto, ci sono altre modalità, però richiedono anche un approccio all'azienda differente. Ed è qui il passaggio. Ad esempio, un elemento che vorrei proprio toccare, che va un po' al di là di tutto, molte volte la presenza del manager viene vissuta come quasi un qualche cosa che porti e riduca l'autonomia del singolo commerciante, che si vede quasi come ridotta la sua possibilità di azione. In realtà, il passaggio è importante, bisogna pensare che la torta è più grande, non è più piccola. E se la torta è più grande, io posso perdere qualcosa, ma in realtà sto guadagnando molto altro. È un passaggio culturale non semplice, però. Non semplice, e la formazione in questo caso, secondo me, è molto importante e dovrebbe proprio accompagnare costantemente tutti i soggetti in questo percorso, perché altrimenti si rischia di fare delle cose aspettandoci dei comportamenti che non sempre poi sono coincidenti con le aspettative. Assolutamente. Adesso, se lo diventa importante, questo mi incuriosisce anche molto, che intervento va fatto anche dal punto di vista, se può essere fatto, urbanistico, nelle nostre città, nei centri urbani, a vario titolo. Beh, partiamo con una considerazione. L'urbanistica, per sua natura, è una disciplina, diciamo, inclusiva. Non può esistere da sola, no? Quindi, perché urbanistica deve essere considerata come qualcosa diverso dal commercio? Urbanistica è commercio, urbanistica è pianificare la digitalizzazione. Quindi, se noi dobbiamo pensare alle nostre città che cambiano con un ritmo che ci sorprende quotidianamente, forse il solo piano regolatore non è più sufficiente. O perlomeno deve essere un piano regolatore che tiene conto della componente vitale della città, che è il commercio in senso lato, quindi il commercio rappresenta il terziario di mercato, quindi anche le imprese che lavorano in altri settori, turismo, trasporti, cultura, eccetera. Per cui, devo intendere il piano non come un elemento predittivo, ormai i piani rincorrono al cambiamento. Invece, quello che il commercio ha fatto in questi anni nell'ambito di un accordo con l'Anci lavora insieme ai sindaci, alle amministrazioni, associazioni e amministrazioni lavorano insieme per costruire insieme un modello diverso della città. Certo, partiamo dalla problematica della chiusura, ma questo è diventato in qualche modo lo stimolo per molti per pensare a questo fenomeno e come affrontare, come reagire a questo fenomeno. Ne sono nati tantissimi progetti che abbiamo raccolto e che abbiamo ascoltato infatti insieme dalle associazioni di categoria e delle amministrazioni comunali. Per un anno si è svolto questo laboratorio nazionale per la rigenerazione urbana che esisteva già dal 2015, anno in cui c'è stato questo primo accordo con l'Anci. Ma l'abbiamo fatto in maniera concreta e tutte queste buone pratiche che adesso sono raccolte in questa pubblicazione, ci danno prova concreta che al di là della pianificazione e della teoria concretamente delle azioni si possono fare. E l'elenco a partire da quelle di riqualificazione fisica degli spazi o di riattivazione economica delle città, che forse è quello che più è facile immaginare, ci sono anche però altre misure che si possono fare lavorando insieme alle amministrazioni comunali. Ad esempio la fiscalità di vantaggio è un qualcosa che può aiutare per esempio i commercianti a ridurre la tassazione IMU, TARI, COSAP a favore di coloro che riaprono dei negozi sfitti. Questa è una misura che Padova ha adottato nel 2018 e che per noi fa scuola che altri comuni in Italia, perché io vi racconto un contesto nazionale con cui ho avuto modo di confrontarmi e il Veneto, devo dire, ha delle misure che sono sicuramente, possiamo considerarle pilota rispetto a molti altri contesti regionali in Italia. Per cui non solo riqualificazione, ma ci sono anche tutti degli interventi che entrano in un ambito sociale, perché se io riqualifico una piazza la faccio diventare un luogo d'incontro. A quel punto il negozio diventa anche servizio, pensiamo nei piccoli borghi, la presenza di anche un solo negozio di alimentari aperto. Quello è un servizio di presidio della popolazione più anziana che rimane nel territorio, quindi mantenere accese le luci della città ha un valore sociale enorme, le attività economiche ricucciano le periferie delle città, ecco perché è importante. E al tempo stesso c'è una reciprocità, in un ambiente fisico di qualità è più facile che fiorisca il commercio. Quindi la qualità urbana è necessaria per il commercio, il commercio è necessario per un vivere bene le nostre città. Assolutamente. Ci sono dei problemi in molte nostre città legati appunto anche alla circolazione dei veicoli, vabbè a partire, dopo leggiamo anche l'inquinamento, il traffico e quant'altro, che però non sono incentivanti per le persone per andare nei centri, nei centri storici. In che termini si può agire, visto che sono tutte quante città che hanno una storia, quindi sono un po' particolari in questo versante? Beh, qui torniamo proprio al tema del distretto, perché se io devo regolare l'accessibilità urbana, che vuol dire anche logistica, accessibilità delle merci, pensiamo ai comuni che hanno pedonalizzato le piazze, spesso per i commercianti è un danno, ma perché è un danno? È un danno se io non lo penso insieme ai commercianti, prima di pedonalizzare una via, vuol dire che insieme pensiamo a qual è il modo per far funzionare comunque tutto bene lo stesso, perché se la pedonalizzazione porta alla chiusura dei negozi, risolvo un problema ma ne creo un altro. Se invece lo faccio insieme e comincio a pensare prima ad un equilibrio di accessibilità di persone, merci, di circolazione, allora poi a volte nell'ambito di distretti, questo non era un caso del vento, ma è capitato che fossero gli stessi commercianti di un distretto a chiedere che quella strada fosse un senso unico anziché un doppio senso di marcia, perché se funziona il resto della città, e qui torniamo all'urbanistica, se la città funziona nel suo insieme, posso anche salvaguardarne il cuore e dire bene, qui c'è il passeggio, il salotto della città e quindi è lo stesso commerciante che non vuole avere le macchine davanti alla vetrina, però il cliente arriva lo stesso perché funziona a trasporto pubblico, perché... Certo, assolutamente, sono altre questioni, la ringrazio. Allora, torniamo su questi temi e andiamo in pubblicità rapidissimi qualche secondo.